Cari telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento di fine settimana per confrontarci, per discutere insieme, per affrontare i temi di maggiore attualità che si sono svolti nel corso di questa ultima settimana. Siamo in pieno clima elettorale, oramai manca meno di un mese al voto del 4 marzo per il rinnovo del Parlamento italiano e come in tutta Italia, anche in Irpinia, la ricaduta delle occasioni di elezioni sono abbastanza presenti. Quello che manca in verità, lo notiamo giorno per giorno attraverso il nostro lavoro, credo puntuale, è che si parla poco di Irpinia, si parla poco di programmi, si parla poco nella sostanza sul piano generale dei programmi. È una campagna elettorale molto anomala, strana direi, dove l'insulto ha soppiantato il ragionamento, la capacità di confronto, dove dentro i partiti lo scontro fra gli stessi candidati sotto uno stesso simbolo è diventato una cosa incredibile, quasi una moda e si vede che evidentemente l'attenzione e l'ambizione per superare il traguardo delle elezioni ha soppiantato un po' quelle che erano i canoni di una volta, cioè la discussione politica, i grandi temi. E così sul piano nazionale voi vedete che basta una piccola occasione, anche se rilevante, come il caso di Macerata, e tutta l'attenzione finisce su quel caso, come se cominciasse e finisse lì la discussione sui problemi italiani, ma non è così. Certo bisogna avere grande attenzione, bisogna essere molto attenti perché quello che sta accadendo con un revarscismo dei tempi che furono può significare uno scontento che viene incanalato in modo sbagliato. Parlo di fascismo naturalmente, di rigurgito fascista, del tentativo di riportare le lancette dell'orologio della storia molto all'indietro. E qui forse bisognerebbe riflettere perché con troppa facilità, con troppa superficialità, io direi anche con mancanza di memoria storica, che è un fatto estremamente importante, si è lasciato correre negli anni, nei decenni, quello che era stato il fenomeno e la dittatura fascista, lentamente soppiantata da questa protesta che viene incanalata da una destra oggi senza politica. E questo è un gravissimo fatto. E certo che nel momento in cui accade, come è accaduto a Macerata, l'evento di un pazzo, così bisogna definirlo, di un folle, ma ideologizzato abbastanza, allora il seme della discordia si insinua e diventa un fatto importante. Certo però che in campagna elettorale bisognerebbe accantonare la polemica politica e parlare d'altro, parlare di questo paese, delle difficoltà che ha questo paese, delle famiglie che non riescono a raggiungere la fine del mese, di una sanità che rende sempre meno povera, più povero il panorama anche nella nostra regione e di una povertà che avanza sempre di più. Questi temi, guardate, sono scomparsi dal dibattito politico. E naturalmente la gente si chiede perché devo andare a votare. Io ritengo che, ed è molto importante, guardate, andare a votare. Perché è un'occasione importante. nelle nostre mani, nelle vostre mani, nelle mani degli elettori c'è il cambiamento del paese, se lo vogliamo. C'è la concretizzazione di un desiderio che in altre occasioni non possiamo esprimere e dopo non basta dire, guardate, insomma, le cose vanno male. Perché noi abbiamo contribuito affinché queste cose andassero male. Ma parlavo di temi. Una cosa che non ho ascoltato in questa campagna elettorale, almeno fino ad ora, è la parola mezzogiorno. Per lungo tempo si è detto anche nel passato recente che il mezzogiorno era scomparso dall'agenda politica del paese. E va bene. Ma che poi in campagna elettorale sul mezzogiorno sia caduto l'effetto notte, è davvero una cosa di una gravità estrema. Per tanti motivi. Intanto perché il mezzogiorno è assediato dall'immigrazione dai paesi africani. Che sì, è vero, è una zona di passaggio, ma comunque l'accoglienza, le possibilità di dare dignità a queste persone, il mezzogiorno non la ha per chi è solo a combattere su questa trincea. Mentre un'Europa diventa sempre più egoista, mentre altrove si alzano i muri, i fili spinati. E allora il mezzogiorno che doveva essere in questa campagna elettorale il nodo centrale della questione, del discorso del confronto tra le forze politiche, è scomparso. È vero, nel passato il mezzogiorno giorno aveva avuto qualche piccola ribalta sulla scena. E chi non ricorda per esempio quando l'ex cavaliere di Arcore Silvio Berlusconi nel 1994 scelse la battaglia politica come terreno anche per curare i propri interessi. E inventò il famoso piano del Sud che fu presentato, se ricordate bene, in una trasmissione di quel salotto di Bruno Vespa, sempre più gossippato e meno attento ai problemi dove disse che il Sud sarebbe stato il tema centrale della politica nazionale. Così non è stato, perché il piano di sviluppo si è fermato prima ancora di cominciare. Del mezzogiorno si persero le tracce. Naturalmente tutto questo è stato favorito da come si sono comportati anche i meridionali che rappresentavano queste zone nel Parlamento. Chi non ricorda per esempio l'Aula del Parlamento di Montecitorio vuota quando ci fu la grande discussione sul mezzogiorno all'indomani del rapporto della Svimez che segnalava preoccupazione forte per lo spopolamento, per la questione giovanile, perché non c'era lavoro. Ma anche il centrosinistra ha fallito nella discussione, nell'affrontare i problemi del mezzogiorno. Un segnale molto preoccupante, guardate, di come la politica viva superficialmente questi temi viene dalla collocazione del ministro De Vincenti, ministro per il mezzogiorno, un ministro riscoperto dopo anni di assenze, che viene collocato per le elezioni nel centro-nord, in una regione del centro-nord. Il che significa evidentemente che non c'è sintonia, non c'è sinergia tra il ministro del mezzogiorno, l'efficienza che egli avrebbe dovuto dimostrare per risolvere o affrontare le grandi questioni meridionali e la sua collocazione politica. sembrerebbe, e non sono blasfemo, una sconcertante rinuncia a riproporre il ministro del mezzogiorno in quella capitale del sud, che era Napoli, così come era stato indicato. ed è sembrata a tutti una forma di penalizzazione. Ma anche, vedete, come strumentalmente il mezzogiorno diventa terreno di conquista. Il dibattito di questi giorni, se me lo consentite, è tutto centrato sulla decisione del voto del 4 marzo, una decisione che passa attraverso il mezzogiorno. Il mezzogiorno utile al voto, a far vincere, ma il mezzogiorno inutile ad essere osservato, attenzionato, messo nella condizione di uscire dall'antico problema del dualismo nord-sud. E così anche la Lega di Salvini, che è nata sull'antimeridionalismo più acceso. Chi non ricorda i duelli in Parlamento con l'ex deputato Alberta De Simone del PCI, con l'Umberto Bossi sui fondi del terremoto, quando ci chiamavano spreconi, terroni, animali, non avevano termini per definirci. E questo movimento, la Lega, che ha nel DNA l'antimeridionalismo, ora si presenta sulla scena politica del mezzogiorno per raccattare un po' di voti. ma senza parlare di mezzogiorno, perché c'è anche un pudore, è un limite a parlare di mezzogiorno. E dunque, se andiamo a vedere nei piccoli partiti, alcuni addirittura portano nel loro logo, con il loro simbolo, il sud, ma è un disegno inutile per attenzionare un po' di voti, per prendere un po' di clientele, ma non altro. E guardate, il problema è quello che io, insistentemente, voi mi scurserete, mi perdonerete, e della classe dirigente. E quindi, se l'elezione del 4 marzo serve a rinnovare la classe dirigente, se il voto del 4 marzo contiene anche quella indignazione nei confronti di quei parlamentari meridionali che erano assenti nel corso del dibattito sul mezzogiorno, allora questa è l'occasione per mandarli a casa. Non vi fate convincere da piccole suggestioni, da clientelismo, da cose che non c'entrano con la politica, da sentimenti effimeri, dalla utilizzazione anche del proprio nome e del proprio passato per far valere le regole di nepotismo che sono o diventate insopportabili. Abbiamo bisogno di una classe dirigente nuova, capace di affrontare le grandi questioni, e tra queste grandi questioni c'è prima di tutto quella del mezzogiorno. Perché i problemi dell'Irpinia, e parlo della nostra terra, non si risolvono se non nell'ambito di una questione meridionale che deve essere affrontata con modelli e con risorse e con risposte nuove. In questi ultimi anni ci hanno riempito di turismo, la grande occasione, la grande proposta su cui il mezzogiorno poteva cambiare e doveva avere una grande svolta. ci siamo riempiti la bocca di turismo. Forse qualche albergo in qualche occasione a Napoli e nelle regioni meridionali è risultato anche affollato, ma un fatto temporaneo, senza una politica, senza una strategia, senza un progetto. Noi abbiamo delle cose che altrove se le sognano. Abbiamo la storia, abbiamo l'archeologia, abbiamo i valori naturali che sono bellissimi, ma poi servono solamente per distribuire un po' di mancia a questo ente, a quell'altro progetto, a quell'altro progetto, senza una strategia complessiva capace di far uscire dal mezzogiorno da questa mortificante situazione. E così non si parla di mezzogiorno. Quasi ci fosse un divieto o forse una vergogna. Il masterplan di Renzi, ve lo ricordate? Vi ricordate questo grande progetto innovativo che doveva cambiare il mezzogiorno, che doveva servire a frenare l'emigrazione, a dare occupazione ai giovani? Che fine ha fatto il masterplan? E le ZS, le ZS, ES, le zone speciali. Che fine hanno fatto? E ora questa provocazione, perché così la dobbiamo chiamare rispetto alla domanda, tantissime domande dei giovani, per il provvedimento resto al sud, e ancora nessuna risposta. E i giovani si chiedono, resto al sud, è una presa in giro, perché non c'è una risposta fattiva, concreta di come io resto al sud. Che ci resto a fare al sud? Se non ho una risposta concreta, convincente. Per parlare di positività del mezzogiorno dobbiamo ricorrere agli anni 50, agli anni della cassa del mezzogiorno, alla grande intuizione di De Gasperi e Campigli. Dobbiamo recuperare nella memoria come allora attraverso le grandi opere infrastrutturali il mezzogiorno cominciava a cambiare. Poi il vizio maledetto, ancora oggi in Irpinia, del clientelismo e del trasformismo, fece diventare la cassa del mezzogiorno un jukebox a gettoni, dove tu mettevi i gettoni e ti davano le mance. E anche quella impresa diventò effimera. Finì. E allora il masterplan che è fino a fatto. Lo chiede a Renzi, che viene a Napoli a parlare e di, sa, nel mezzogiorno, insomma, abbiamo commesso degli errori. E come abbiamo commesso degli errori? Ma ci vuole una bella faccia tosta. Ma la stessa destra. Oggi si chiamano fratelli d'Italia. Ma nel dopoguerra, chi conosce la storia, la destra era propositiva. Pannella, in una trasmissione a tribuna elettorale, per accusare la grande presenza della destra, nel mezzogiorno, disse che in mezzogiorno è una vandea. Perché lui, giustamente, si riteneva progressista rispetto a quella classe dirigente. E quindi tutti sono coinvolti in questa opera silente, di effetto notte, caduto sul mezzogiorno. Scusate, se è un'occasione elettorale come questa, che è in bilico davvero sul risultato, i commentatori politici, le statistiche, i sondaggi, dicono che la vittoria passa per il mezzogiorno e non si parla di mezzogiorno. E si usa il mezzogiorno. Ma non vi sembra una grande contraddizione? Non è forse questa l'ora, l'occasione, il momento giusto per rivendicare un diritto ad esserci che ci è stato negato? Ma di mezzogiorno? Come potete leggere su tutti i giornali, su tutti i social, attraverso la televisione, si parla poco o addirittura non si parla. Io ho detto perché si ha vergogna. E a parte il mezzogiorno, dicevo l'Irpinia nel mezzogiorno, anche qui, che cosa dovrà essere l'Irpinia? Chi ve lo spiega? Avete mai... Io, i miei colleghi, i miei giornalisti che fanno interviste a tutto spiano in questi giorni, in queste ore, delle televisioni, che sono affollate di parole e promesse, tanto per ricordare un po' Mina, non sentono parlare di Spignia. Che cosa vogliamo che diventi questa nostra provincia? Come pensiamo e con chi pensiamo di cambiarla? con chi l'ha rovinata, con chi è stato feudatario per anni e anni, per chi ha calpestato la dignità degli uomini, per chi ha fatto incinocchiare i ragazzi per sopravvivere? la vogliamo rinnovare dando il voto a questi? Eh no! Ora tutti diventano buoni, tutti scoprono progetti, tutti piangono perché i nostri ragazzi vanno via, perché non hanno occasione di lavoro, tutti si beano del fatto che i nostri ragazzi sono i migliori ricercatori nel mondo, ogni tanto scopri che negli Stati Uniti, a Philadelphia, altrove in Germania, ci sono ragazzi che vengono da Melito, Paternopoli, Ariano, dalla Valle, da Cervinara e che sono ricercatori primi nel mondo. e allora come coniughiamo questa emigrazione che qualcuno dice che è una cosa positiva perché è un problema in meno e come Mussolini quando parlava della mafia diceva che non esisteva. Come coniughiamo la capacità di questi giovani, la loro volontà, il loro essere bravi con la nostra pigrizia, il nostro sfruttamento del lavoro giovanile, ecco l'occasione di cambiare, di parlare di questi argomenti. ed è giusto che si parli di questi argomenti. Prima parlavo del Sud. Voi sapete che c'è una legge che prevedeva il 34% delle specie dello Stato da investire nel mezzogiorno per incentivare attività produttive. sapete che è passato quasi un anno e questa legge non si è mai messa in moto che abbiamo perso occasioni tantissime e voi pensate che la classe dirigente di questo mezzogiorno non è stata capace di attivarsi di indignarsi di protestare non lo ha fatto perché era assente perché è assente quando si parla di mezzogiorno e quindi a voi aspettano le scelte. il voto non è un San Carlino questa cosa rituale che tu li vedi parlare in giro pacche sulle spalle insomma questa ritualità indecente mortificante il voto è l'occasione per cambiare il voto è il momento della grande riflessione su ciò che ci è stato negato e su ciò che dobbiamo riprenderci con la nostra volontà la nostra capacità di esserci scegliendo gli uomini migliori non facendoci vincere da quattro accattoni che hanno usato anche gli enti locali per fare proprie posizioni consulenze e guardate dovreste arbrossire di vergogna voi che andate nell'urna e mettete il voto il vostro segno la croce su chi è stato ed è il responsabile del mancato sviluppo di questa provincia e questa è la partita che si gioca e poi c'è l'altra partita quella delle elezioni amministrative quelle che riguardano la città di Avellino oramai lo scembio è compiuto di nunno buonanima si rivolta nella tomba per le cose che aveva immaginato potessero rendere migliore questa città ricordata la città giardino sia pure con qualche errore a me non piace la santificazione dei morti specialmente quando se ne fa la utilizzazione ma poi Galasso che era stato avversato in tutti i modi ma che era stato condannato da chi lo aveva voluto sindaco aveva continuato le opere di di nunno opere che queste non sono riuscite neanche a tagliare il nastro perché sono tutte in itinere non c'è un'opera che è stata completata ma pensate alla vergogna della dogana pensate alla vergogna della dogana un piccolo palazzetto che era il simbolo ed è il simbolo di una città che è mortificata dai tubi innocenti e che tra le promesse varie che si fanno e che si rinnoveranno in questa campagna elettorale amministrativa come si sta rinnovando quella per il mercatone che senza decenza qualche assessore dice a luglio a giugno consegneremo il cantiere ma ci vuole pudore nel dire queste cose è pensato a quel tratto della bonatti ma insomma nel mondo si costruiscono città in un anno noi per 150 metri 200 metri della bonatti che dal piano d'ardine fino al cimitero resta chiusa non si sa perché con un contenzioso che avanza con soldi dei cittadini che sono costretti a dover pagare di più una città in cui molte cose non si capiscono dove addirittura si insinua il dubbio che una struttura pubblica di servizi debba chiudere per favorire i privati e non faccio nomi ma tutti avete capito perché e non bisogna meravigliarsi quando poi la dia nella relazione che questa settimana ha presentato al Parlamento parlando della nostra provincia dice che i clan rialzano la testa perché l'intreccio politica amministrazione è sempre più evidente perché quando non c'è il buon governo è la malavita prendere il sopravvento e allora anche qui pensate che il voto sia un momento un giorno una passerella un modo per no il voto è un atto di grandissima responsabilità è la selezione della classe dirigente e ci vuole coraggio nel mettere una croce su un simbolo ci vuole coraggio soprattutto a sfidare un futuro che oggi come oggi non c'è e lo dicono le opere pubbliche e lo dice lo stato in cui è ridotta questa città dove la povertà aumenta sempre di più la caritas gli interventi di Carlo Mele la sua disparazione a trovare anche come vestire e dar da mangiare ai poveri che aumentano sempre di più e questo è il risultato di un mal governo senza sensibilità dove l'egoismo ha vinto su tutto l'individualismo ha preso la parte della solidarietà e noi dobbiamo cominciare a misurarci con la solidarietà non a girare la testa dall'altra parte ma a capire che i bisogni degli altri aiutano anche noi a sentirci meglio ma con questi uomini che nel quinquennio passato sono stati scelti non si va da nessuna parte e forse per come stanno andando avanti le cose non si torna neanche più a casa propria buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti